Ciao a tutti, io sono Banzalena e oggi vi farò vedere come fare i cannelloni. Ingredienti, cannelloni, poi abbiamo beffiamella cotta, spinaci ben scolati, ricotta, fumarola, sale, mousse moscata. Rettiamo gli spinaci già scolati nel tagliere e prendiamo la mezzaluna e cominciamo a tagliarli. Ora che abbiamo tagliato gli spinaci li mettiamo nella ciotola. Poi ci mettiamo la ricotta e lo scoliamo insieme agli spinaci. Dopo messa la ricotta con gli spinaci aggiungiamo un pizzico di sale. Poi aggiungiamo tutta la noce moscata, poi ci aggiungiamo il parmigiano. Ora mettiamo l'impasto nella sac a po' Ora me ne giusto un po' proprio perché è una cosa difficile. Mettiamo un po' di besciamella nella teglia. Dopo messa la besciamella cominciamo a metterci i nostri cannoli. Ora dopo fatte i cannoli ci mettiamo sopra una bella scolpacciata di besciamella. Dopo messa la besciamella ci mettiamo tre cucchiai di pomarola per colorarla un pochino. Dopo messa la pomarola ci mettiamo una bella spolverata di parmigiano. Poi si mettono in forno per una mezzoletta. Ecco i pronti i cannelloni, buon appetito!